Si respira aria di fiducia e di futuro alla Michelin, dopo l'ipotesi di accordo raggiunto al termine di una lunga e articolata trattativa che ha visto impegnati i vertici del Gruppo Italia e i sindacati di categoria di Alessandria, Torino, Milano e Pomezia. Tra i punti più importanti, la stabilizzazione nel triennio 2024-2026 di 260 lavoratori in somministrazione dei siti di Cuneo, Alessandria, Torino e l'impegno ad investire oltre 90 milioni di euro. L'accordo prevede anche un aumento del 6% nel triennio del premio, che nello specifico passerà dagli attuali 2.322 euro a 2.462 nel 2026. Tra i punti poi anche la stabilizzazione a tempo indeterminato di 260 lavoratori somministrati nell'arco del triennio 2024-2026, oltre 90 milioni di euro di investimenti, un aumento sul montante del premio, il miglioramento del riconoscimento del benefit treno-gomme, il riconoscimento poi di 10 giorni aggiuntivi di congedo obbligatorio di paternità per nascita e adozione per tutte le tipologie di famiglie, retribuiti al 100% e aggiuntivi rispetto a quelli previsti per legge. Ma non solo, un impegno a verificare con il gruppo Mondo l'estensione dalla polizza sulla provenienza ai casi di invalidità permanente. Inoltre è fondamentale la conferma d'estensione per tutti i siti italiani di tre importanti accordi sperimentali inerenti gli appalti, l'orario fiduciario e la regolamentazione del lavoro agile, ossia lo smart working. Questo contesto, si legge in una nota diramata dai sindacati, necessita di una risposta dei lavoratori che mantenga e rafforzi l'occupazione e gli investimenti nei siti del gruppo in Italia, attraverso un'organizzazione del lavoro capace di cogliere nuovi volumi produttivi, garantendo contestualmente una buona qualità nel lavoro e maggiori diritti. Il rinnovo, spiegano le segreterie nazionali e la delegazione che ha trattato l'ipotesi di accordo, è avvenuto in un contesto di forte complessità, un mercato dello pneumatico già maturo da alcuni anni in Europa che porta a una capacità produttiva installata eccedente sia sul segmento turismo che su quello autocarro e una modifica radicale dei modelli di distribuzione logistica. Il gruppo risponde rafforzando la strategia di diversificazione produttiva e ampliando così gli investimenti non solo sui siti italiani, ma anche sull'acquisizione di produzioni contigue al proprio business. Per i sindacati, le estensioni di questi accordi sull'organizzazione del lavoro garantiscono tutte le diritti e un migliore equilibrio vita e lavoro ai lavoratori occupati nel perimetro Michelin Italia, siano essi diretti, somministrati oppure in appalto.